Ripresa degli allenamenti con esercizi di attivazione della mobilità tecnica e di possesso palla con transizione per il Cosenza Calcio. Seguite poi da lavoro fisico e partita finale, è stato il primo allenamento dell'anno 2023 e la prima seduta per Alessandro Micà in rosso-blu. Lavoro differenziato invece per Gozzi e Calò, oggi doppia seduta. Anche la regina torna in campo questo pomeriggio. Terminate le vacanze natalizie, appuntamento per i calciatori amaranto al centro sportivo Sant'Agata per la ripresa degli allenamenti. La seduta si svolgerà a porte chiuse ed avrà inizio alle 15.30. Per il Crotone invece giornata di doppio lavoro ieri al centro sportivo. Mister Lerda e la squadra stanno preparando il match al Veneziani di Monopoli in programma sabato alle 17.30. La mattina la squadra è stata divisa in due, combinazione e tiri per centrocampisti e attaccanti, didattica difensiva per i difensori. Poi consueto pranzo collettivo. Dopo i rosso-blu sono tornati in campo nel pomeriggio tra possessi, lavoro fisico e partitella. La gara tra Monopoli e Crotone, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, sarà diretta dal signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabbia che sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Fabio Catani di Fermo, quarto uomo Leonardo Mastro Domenico di Matera. Prima operazione di mercato ufficiale in uscita per il Catanzaro. E di ieri infatti l'ufficialità che il difensore Erasmo Moulet, arrivato in prestito dalla Juventus, si è ora accasato a Monopoli. Così come annunciato dai canali social della sua società di appartenenza a Moulet, vanno i ringraziamenti dell'OS Catanzaro per l'impegno profuso in questi mesi. Comincia a muoversi qualcosa anche in casa giallorossa? Vedremo nei prossimi giorni. Intanto è stata aperta la prevendita per i tagliandi della gara Catanzaro-Taranto al Ceravolo di sabato 7 gennaio alle 17.30, la prima gara del nuovo anno 2023.